Interessante amore dei fan che ha attraversato Kenny Aman. Kenny Aman è un attore turco molto popolare. Ha muscoli forti ed è ammirato da molte fan per il suo corpo. Kenny Aman, che fa sport e si prende cura di se stesso, è diventato famoso per le sue serie tv. L'attore, che interagisce con una vasta fanbase grazie ai social, riceve a volte richieste interessanti. Nelle sue interviste, Kenny Aman condivide le sue esperienze di tanto in tanto. Il famoso attore si è sentito responsabile di un fan di 80 anni che si è innamorato di lui in Spagna. Spiegando che sta attento a non fraintendere i messaggi che riceve e cerca di essere rispettoso con tutti, Kenny Aman non vuole spezzare il cuore a nessuno. A un certo punto è apparso il fan spagnolo di 80 anni dell'attore. Le figlie di questo fan hanno chiesto all'attore turco di convincere la madre a farsi curare. Descrivendo questo evento interessante che gli è successo, Kenny Aman ha detto Una volta sono stato chiamato dalle figlie di una donna di 80 anni che si è innamorata di me in Spagna per convincermi a farmi curare.